Buongiorno da BTV News. Oggi 17 gennaio e Sant'Antonio Abate è della giornata mondiale della pizza istituita nel 1984 da un gruppo di pizzaioni napoletani con lo scopo di promuovere la pizza come simbolo della cultura e della cucina italiana in tutto il mondo. La pizza insieme alla pasta è uno dei piatti italiani più conosciuti e amati nel mondo ed è ritenuto un vero e proprio simbolo dell'Italia e della gastronomia italiana. La giornata mondiale è stata ufficializzata nel 2017, lo stesso anno in cui la pizza è stata riconosciuta patrimonio culturale dell'umanità dall'UNESCO ed è stata istituita per celebrare e tutelare questo importante monumento della cucina e della cultura italiana. Oggi è anche la giornata nazionale della cassuela e la giornata mondiale dell'hot buttered rum, bevanda invernale a base di rum, acqua, burro, noce moscata, cannella e zucchero di canna. Tra i nati in questo giorno c'è l'attore Jim Carrey 1962 e Vittoria Belvedere 1972 attrice televisiva. Tra i scomparsi ricordiamo Pietro Anastasi 2020 calciatore. Grazie. Grazie a tutti.